Luca Vanzella Allora siamo qui alla giornata di cosplay, fumetti, parliamo di fumetti intanto parliamo di quale opera hai presentato, cioè le tue opere, che genere rappresenti? Allora io qui ho presentato Beta che è un fumetto di fantascienza a tema Robo Giganti ed effettivamente siamo stati chiamati qui per parlare di fantascienza perché altri lavori che ho fatto io e il disegnatore Luca Genevese e anche lui invitato sono da tema fantascienza che sono stati orfani per Sergio Bonelli seconda stagione Ringo e terza stagione Nuovo Mondo, entrambi di fantascienza Qual è la domanda oggi che ti hanno posto particolare perché forse quella domanda non ti aspettavi? Oddio, mi hanno chiesto spesso se c'erano stati litigi fra me e il disegnatore invece è stato tutto molto tranquillo se no hanno chiesto molto male su come si realizza l'opera che è effettivamente una cosa che fa curiosità però spesso non viene chiesta quindi abbiamo spiegato un po' come io e il disegnatore lavoriamo assieme Qual è la base che porta poi a fare un progetto? Da quale è lo spunto, l'idea e poi soprattutto da come impostare un inizio, un progetto? Beh uno parte con proprio l'idea, un po' ispirazione, quindi diciamo un po' evanescente un po' così che non si può definire e l'abilità sta nel trasformare questa cosa in una storia che poi abbia anche una possibilità di diventare un oggetto fisico di mercato, non so come dire di trovare un modo che sia una storia che possa poi avere un editore ed essere pubblicata, quello è un po' il passaggio impegnativo però all'iniziale sembra un po' come un buon sogno insomma tipo ah sì sarebbe tanto bello parlare di questa cosa poi bisogna trovare un modo per cui questa cosa sia fattibile davvero È difficile a quel punto dare vita al personaggio perché a volte il personaggio può essere piatto invece riuscire poi a renderlo vivo è una cosa un po' più complessa Beh certo, quella è la parte più difficile però è anche la parte più bella cioè io direi che proprio il motivo per cui uno ha voglia di scrivere storie è proprio quella di riuscire a creare qualcosa che abbia una sua vita una sua tridimensionalità, una sua dimensione per cui sì è difficile però direi che è il motivo per cui uno fa questo lavoro se ci mente in questa cosa C'è un personaggio del tuo settore che dice guarda quello ha fatto quel tipo di personaggio io effettivamente mi piaceva averlo fatto in quel modo oppure a volte ti capita di fare un personaggio e rappresentare e poi ti accorgi che un pochettino si assomiglia Allora, che assomiglia dopo un po' no perché è una cosa che sono molto... cerco di stare attento cioè qualcuno magari mi dirà che questo personaggio assomiglia a qualcun altro però cerco di non ispirarmi però ci sono molti autori che apprezzi dico caspita vorrei aver fatto io queste cose e beh degli italiani un po' Tiziano Sclavi con Dylan Dog o i creatori di Nathan Never sicuramente hanno fatto... o Castelli, Martin Mister, sono una grande cosa e anche molti autori magari sia giapponesi che americani che tu dici caspita vorrei fare quello che hanno fatto loro però l'idea è cercare in tutti i modi di farlo nel tuo modo cioè vorrei arrivare a quei risultati però cercare la propria strada per arrivare a quei risultati poi dopo se qualcuno ha il passo è in comune con qualcun altro insomma me lo diranno e non c'è niente di male Ci sono molti più giovani o molte persone un po' più cresciute rispetto alla media che tu vedi che ti chiedono consigli? Allora che mi chiedono consigli sono stati abbastanza giovani comunque ventenni nel senso di solito in età superiori c'è magari un po' di timidezza e di cordi di non sentirsi ancora pronti per chiedere e no quelli che di solito iniziano a dire no che io penso di potercela fare lo faccio tendono ad avere già vent'anni ventidue, ventittre anni che sono cementati hanno iniziato a fare le loro esperienze e dicono no no ma io ce la posso fare quindi si mettono diciamo fanno il gradino oltre fanno il gradino oltre quindi chiedono autori vanno in giro mostre e cose del genere ce ne sono anche di che magari hanno un po' di età di più però sì quelli che hanno proprio voglia di farlo come lavoro tendono ad essere venti e qualcosa anni grazie